Ma cosa mangiano questi bambini? Tutto quello che possono mastichere, scarpe vecchie, bucce di patete, carrubbe, palle di fichi d'India, zanzere e mosche. E a casa che gli danno? Le bastonette. Sono famiglie povere, signorina. Hanno detto che in Baese non c'è neanche una persona giovane, sono tutti anzieni. Già, perché? Perché i giovani stanno in galera, 15 anni, 30 anni, ergastolo, e sono ragazzi che si devono arrangiare per portare un pezzo di pena a casa. Poveri bambini. Ha notato se hanno dei disturbi digestivi? No, per quello digeriscono tutto, signorina. Lei c'ha presente la processione della via Crucis, se viene dissendo? Se ha la frusta per picchiare Gesù, tutto hanno mangiato. La frusta, i sandali di Ponzio Pileto, le candele, tutto. Non posso lasciare una candela in giro se la mangio, perché quello è dolce, capisci? È tedero.